Grazie eccellenza. Allora un po' una sintesi di quello che è emerso da questo dibattito. Una cosa importante che secondo me va sottolineata è il non dibattito, il non dibattito sulle tematiche cardine di questo progetto di legge invece abbiamo fatto un dibattito sul referendum che dovrebbe tenersi fra settembre e ottobre sull'interruzione volontaria di gravidanza. Bene, almeno ne abbiamo parlato un po' in quest'aula e abbiamo cominciato a affrontare quel tema che se non ricordo male giace da tanto tempo in quest'aula perché ricordo Vanessa Muratori ed altri depositarono un progetto di legge nel 2014 ma non è il tema cardine di questo progetto di legge. Quindi colgo con favore le parole del collega Mussoni adesso in conclusione che giustamente richiama andare in commissione e lì in quella commissione fare la giusta sintesi fra le posizioni dei diversi gruppi politici e anche raccordando magari con le proposte già giacenti su alcuni degli aspetti di questo progetto di legge che è il senso del lavoro parlamentare ovvero confrontare le diverse sensibilità presenti in aula e arrivare alla giusta sintesi. D'altro canto mi ha ad esempio sconcertato che so che qualche rappresentante del gentil sesso facesse una questione di finanze pubbliche quando ad esempio in questo progetto di legge una delle cose che si va a detassare sono gli assorbenti femminili oltre altri presidi medici di supporto a bambini, anziani e cose di questo genere. Quindi direi che non dobbiamo soffermarci solo a quell'aspetto anzi auspico che ad esempio questo intervento sulle aliquote fiscali di questi presidi medico-sanitari estremamente importanti per molte categorie di popolazioni e per le colleghe in età fertile con ciclo regolare o ciclo irregolare insomma con ciclo possa giungere a termine. Quindi per concludere noi come gruppo rete siamo molto contenti di avere portato questo progetto di legge perché riteniamo che anche su tematiche con sensibilità diverse con approcci diversi e giustamente etici, parimenti etici non ce n'è uno più giusto o più sbagliato sono tutti con uguale dignità e vanno confrontati ma bisogna parlarne e bisogna parlarne in quest'aula non possiamo semplicemente attendere gli eventi per quello che riguarda la tempistica anche qui ragioniamo, non facciamo solo proclami non abbiamo proposto una procedura d'urgenza proprio perché non volevamo andare a influire sulla tempistica di un referendum o sull'esito di un referendum anzi abbiamo tempo di confrontarci e di ragionare in commissione su quello che sarà l'esito del referendum e portare l'esito del referendum anche su questo o altri progetti di legge ad esempio avete ragionato su questo? secondo me è una possibilità analogamente dobbiamo riflettere che se facciamo un dibattito sul referendum come è avvenuto oggi nella maggior parte degli interventi ovviamente se il referendum passasse dovremo acquisire nel corpo legislativo san marinese il senso del quesito referendario ovvero una depenalizzazione totale e non una depenalizzazione con un meccanismo di impossibilità a mettere in essere l'esito del quesito referendario quindi ragioniamo pacatamente portiamo le diverse sensibilità mediamole in commissione e affrontiamo queste tematiche estremamente importanti ribadisco quello che ho detto nell'intervento precedente l'interruzione volontaria di gravidanza è una piccolissima parte di questo progetto di legge ci sono 17 articoli e al 95% parliamo di altre tematiche legate alla sfera affettiva familiare e alla tutela della famiglia e alla tutela della salute sessuale delle persone san marinese soprattutto con un approccio che va verso i giovani l'informazione dei giovani e l'educazione a una politica di prevenzione della loro salute sessuale della loro approccio al loro corpo e quindi anche a una migliore condizione fisica per una genitorialità consapevole e altamente soddisfacente ringrazio quindi tutti i gruppi politici per i loro contributi che verranno nel dibattito in commissione che spero possa avvenire appunto entro pochi mesi magari considerando se vogliamo tornare al dibattito che è venuto fuori anche l'esito del referendum fermo restando che Rete a queste tematiche tiene indipendentemente dalle tempistiche e sottolineo che Rete è fermamente convinta dell'importanza di dibattere di queste tematiche che sono legate alla vita dei singoli alla salute dei cittadini a alcuni aspetti della loro vita quotidiana e soprattutto alla possibilità di una paternità e maternità consapevole per la formazione delle nuove famiglie del domani quindi con un occhio di riguardo alle giovani generazioni grazie